Il 2 maggio a Palermo la cerimonia di premiazione della 21esima edizione del premio giornalistico nazionale Mario e Giuseppe Francese. Vincitrice della 21esima edizione è Daphne Caruana Galizia, la giornalista maltese rimasta uccisa a 53 anni dall'esplosione di una autobomba vicino casa, dopo aver presentato due settimane prima del suo omicidio una denuncia alla polizia per aver ricevuto minacce. La corruzione al centro delle inchieste sviluppate negli anni dalla giornalista uccisa. La 21esima edizione del premio, organizzata dall'Ordine dei giornalisti in collaborazione con Libera e con l'Associazione Uomini del Colorado, si terrà mercoledì 2 maggio nell'aula magna del liceo classico Vittorio Emanuele II di Palermo. Il titolo della manifestazione culturale sarà Libertà di stampa sotto attacco. Il premio intitolato a Mario Francese andrà a una personalità che si è particolarmente distinta nel campo delle inchieste, mentre quello dedicato a Giuseppe Francese ha un giornalista under 36. Saranno quattro i giornalisti siciliani che riceveranno premi speciali nell'ambito del premio francese. Sandra Figliuolo del giornale Sicilia, Antonio Fraschilla di Repubblica, Luigi Perollo direttore del Tgmed e Fulvio Vivano Sky Tg24. La manifestazione sarà condotta dai giornalisti Marina Turco e Sergio Leone. Previsto anche un evento formativo che tratterà di libertà di stampa sotto attacco in un periodo particolarmente difficile per i cronisti. In Italia e nel mondo si metteranno in rilievo i casi di due giornalisti che vivono sotto scorta per le loro inchieste, Federica Angeli di Repubblica e Paolo Borrometi, direttore del sito laspia.it. Coinvolti anche otto istituti scolastici siciliani per aggiudicarsi il premio riservato agli studenti. Sei a Palermo, il liceo Benedetto Croce, il liceo classico Vittorio Manuel II, il liceo psicopedologico Regina Margherita, il liceo classico Umberto I, il liceo classico internazionale Giovanni Meli, il liceo scientifico Stanislao Cannizzaro, il Don Bosco Ranchibile, una Corleone, l'istituto Giovanni Colletto e una Sidi Cusa, città natale di Mario Francese, il liceo classico Tommaso Gargallo. I ragazzi, dopo aver partecipato ad alcuni incontri con giornalisti, hanno preparato i racconti di storie positive e riscatto sociale attraverso articoli, video, reportage fotografici, inchieste.